Ciao a tutti! Oggi insieme ad Alissa usciremo a fare una passeggiata con la piccola Aria abbiamo preparato tutto il necessario c'è la sua spazzola mettila pure nel passeggino e c'è anche il ciuccio ma c'è anche il suo ciuccio me lo fai vedere il ciuccio? c'è il ciuccio poi c'è il suo giocattolo preferito poi c'è il suo lattuccio la sua fascetta per i capelli che dopo gliela mettiamo e un pannolino di riserva allora però Aria è vestita un po' pesante oggi fa caldo dobbiamo vestirla un pochino più leggera vero Alissa? che ne dici? gli mettiamo solo il body oggi per uscire? ma non è un taglio? no col body ed eccoci pronte! l'abbiamo vestita soltanto con questo body leggero perché fuori fa caldissimo e quindi va bene così vero Alissa? sì ma ora ti metto un po' nel passeggino e siamo pronte per la passeggiata! si va! ciao! 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 piange! uoooh! metti glielo dai ecco, adesso va meglio, vero? si ti piace uscire con la tua bimba? si, perché non ho mai uscito con la tua bimba tra poco giochiamo e poi gli possiamo dare un po' di latte certo, dopo è l'ora della pappa grazie 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 ora possiamo riportare la bambina a casa Sì Lei gioca un po' tranquilla da sole Poi quando io ho finito di cucinare Per finta Ti do un po' di pappa Ok Ciao Ciao Facciamo tutto Ma l'hai potuto Brava, ridaglielo Ora siamo arrivati Sì Siamo arrivati E adesso Una bella pettinata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti